La prima fontana telematica per distribuzione dell'acqua naturale è stata inaugurata a Corinaldo sabato scorso, accompagnata da una grimita folla. In un momento in cui si parla dell'acqua pubblica vogliamo anche renderla praticabile e utilizzabile da tutti i cittadini, da tutti coloro che vengono sul nostro territorio, un'acqua controllata, già buona che arriva nei nostri rovinetti, questa ulteriormente controllata e monitorata. Quindi si va nella logica di un ulteriore servizio alla cittadinanza e si va anche a risparmiare le tonnellate e tonnellate di bottiglie di plastica. La nuova fontana distribuisce acqua naturale ambiente, naturale fresca e gassata. Questa è un'iniziativa che nasce da un progetto della provincia di Ancona che attraverso la multiservizi ha messo i comuni, almeno il 25% dei comuni della provincia di Ancona, in grado di approntare una struttura quale la bevilacqua di Corinaldo. La presenza della regione significa un ringraziamento per questa iniziativa e per far capire ai bambini, ma a tutti i cittadini, l'importanza di questo bene primario che è l'acqua e che secondo noi deve rimanere un bene di proprietà pubblica. Un servizio in più dell'amministrazione comunale corinaldese per i suoi cittadini, un modo intelligente per far diminuire il consumo di bottiglie in circolazione.